Cesena che merita di stare dove sta in testa la classifica, poi in occasione del gol la giocata che hai fatto per mandare poi Adamo in profondità senza avversario è stata molto bella. Sì dai, siamo molto contenti perché sapevamo incontrare una squadra difficile, offensiva, che lasciava spazi ma sapevamo che creava tante occasioni da gol. Questa sera siamo stati bravi, nel primo tempo soprattutto a limitarli e a sfruttare le nostre occasioni, le nostre ripartenze e i nostri giocatori. Qual è stata la chiave di questa partita? Come l'avrete preparata con Toscano? Prepariamo le partite come sempre, in base alla squadra avversaria, la prepariamo, il mister ci dice quello che deve fare e noi se facciamo quello che sappiamo e poi di fare la partita fin dall'inizio aggressivi, penso che faremo tanti punti. Diciamo vittoria meritata senza sembrare dubbio. Penso proprio di sì. In occasione del gol ci racconti un po' quel movimento con cui hai liberato la corsa di Adamo? Sì perché noi sapevamo che volevamo sfruttare il taglio del trequartista mezzala per liberare il quinto, è stata un'azione veloce, ho visto la palla arrivare, l'ho lasciata da Adamo che lui ormai è un assist man, diciamo che sta facendo alla grande, ha messo una bella palla che Cristiano ha spinto dentro. Sa per sincero vi fa paura la Torres o il Cesena sa di essere la più forte? No, noi non sappiamo, noi siamo consapevoli che dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, che dobbiamo continuare così, poi tireremo le somme più là.